Amici di Youtube, ben trovati da Marco Ligori. In questo video parliamo di un violento terremoto che ha colpito la Calabria e più nello specifico un terremoto avvenuto a 58 km da La Mezzia Terme, una scossa molto violenta che è stata avvertita in mattinato in un periodo, diciamo la verità, piuttosto denso di eventi sismici nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Comunicherò ulteriori sviluppi. Ciao a tutti.